ciao 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 a tutti registro un brevissimo video mentre sto andando a prendere lorenzo all'asilo come vedete non è una bellissima giornata questo video fa seguito a quello che ho pubblicato ieri lascio passare l'auto allora dovevi parlavo di quella collaborazione che a cui non ho aderito perché mi si imponevano un po troppe cose neanche farlo apposta oggi ho ricevuto una richiesta via mail da un giornalista di una piccola emittente locale qui delle nostre valli dove mi diceva di avere trovato un mio video sul natale è pubblicato l'anno scorso e mi chiedeva il permesso di usarlo per uno spot pubblicitario natalizio per la loro emittente citando la fonte naturalmente non vi nascondo che la cosa mi ha fatto molto molto piacere io chiaramente ho risposto che poteva liberamente usare il mio video e ho detto anche che non è necessario che venga citata la fonte perché la mia politica è quella di non pubblicizzare il mio canale sembra strano lo so ma è così e lasciare al caso che venga scoperto da qualcuno e che venga è apprezzato da qualcuno ed è stato proprio questo il caso penso di essere una youtuber un po atipica lo so però ecco adesso lui chiaramente mi ha risposto subito con molto entusiasmo ringraziandomi e dicendo che una volta realizzato questo spot poi mi avrebbe mandato il risultato finale prima di metterlo in onda per tutta la durata delle festività natalizie e così vedete ci sono le piccole soddisfazioni la camminata lunghe dicevo ci sono le piccole soddisfazioni youtube che non sono sempre di carattere economico di regali grazie per avermi seguito come vedete vi faccio proprio sapere tutto tutto quello che che riguarda me il mio rapporto con youtube un abbraccio un sorriso a tutti e al prossimo video ciao ciao